I ragazzi che sono nati e cresciuti nella città dei fiori spesso si lamentano che non c'è mai nulla da fare. Ma cosa fanno i giovani di oggi a Sanremo? Sanremo come se sono quasi tutte le stesse cose a fare, ora sono molto fortunati al mare e quindi qualche volta d'estate si va al mare, sia i tuoi ponti o il buro, comunque anche la voce, il tuo campo, il mio posto. Tipo magari fai una nuotatina al mare, ma tranquilla sotto casa, torni a casa a pranzo e al pomeriggio poi ti vedi con gli amici per una birra, una balletta al mare. E la sera comunque il divertimento continua nelle sagre, nelle serate montane del paese. Io amo tanto la serata del gruppo campo che è il domenica di sera e si fa per i figli dalle sette e mezza in poi lì, si sta con gli amici e ci si diverte perché c'è una bella musica. Il best moment è un po' molto più bello, quindi quando si ritrova la festa di Poglirodi, Sant'Anna ad esempio. Grazie a tutti! Grazie!